Musica Straordinaria scoperta scientifica a Padova, la sincope potrebbe essere sintomo di embolia polmonare. Festa ai campioni paralimpici di Rio, un sorriso che vince. L'embolia polmonare è la causa prevalente della sincope, perdite di coscienza momentane e non dovute a cali di pressione o altre patologie potrebbero nascondere in realtà questo killer silenzioso, terza patologia per frequenza tra le malattie cardiovascolari, tanto che provoca circa 370.000 decessi l'anno solo in Europa. La scoperta si deve al professor Paolo Prandoni, direttore del centro di coagulopatie dell'azienda ospedaliera di Padova, che ha avviato uno studio su tutti i pazienti che afferivano ai pronti soccorso di 11 ospedali d'Italia. Le conclusioni, pubblicate sulla prestigiosa rivista internazionale, aprono la strada a una rivoluzione diagnostica che avrà ripercussioni in tutto il mondo. Allora, questo studio dimostra in maniera inequivocabile che l'embolia del polmone è presente in soggetti che cadono improvvisamente a terra per effetto di una sincope con una frequenza vicina ad un cado su sei. Quindi è molto più frequente di quanto sospettato fino a un recente passato ed è indispensabile quindi che i medici siano edotti di questa cosa e siano incoraggiati ad eseguire la ricerca della presenza di embolia del polmone in tutti i soggetti che i pronti soccorsi ricoverano per un episodio improvviso e inatteso di caduta a terra. La diagnosi precoce dell'embolia polmonare, patologia trattabile con successo, riduce la mortalità del 75% e quindi è necessario che le linee guida in materia ora vengano rapidamente adeguate a questa scoperta. È indispensabile che vengano riformulate tutte le linee guida sia nazionali che internazionali che attualmente danno come rara questa eventualità e non incoraggiano la ricerca di embolia. È indispensabile che i pronti soccorsi, chi lavora a pronto soccorso sia edotto di queste eventualità per avviarle prontamente la ricerca e inviare i pazienti ai reparti mezzi di afferenza con l'indicazione di indagare anche la presenza di embolia del polmone. Dato che la pronta diagnosi, quindi il pronto riconoscimento e la pronta terapia dell'embolia del polmone, se questa è in causa, può salvare la vita dei pazienti. Lei l'ha definita un killer silenzioso. È assolutamente un killer silenzioso perché colpisce in molteplici modi. La sincope è uno di questi. Ora è indispensabile che venga indagata la presenza di embolia anche in molte altre circostanze e situazioni, tipo lo scompenso cardiaco, il dolore toracico, la polmonite, i disturbi del ritmo cardiaco, eccetera. 300 abbracci in rappresentanza delle migliaia di veneti che avrebbero voluto celebrare, come si deve, i campioni per allimpici dopo le imprese a Rio de Janeiro. Prestazioni e medaglie esaltanti che hanno davvero emozionato. Beh, beh, ma non solo, ma anche Alex che abita, nonostante sia, come dire, bolognese, ma abita qui vicino Padova, Alvise che è un monumento, un monumento, Bettella, insomma, mi dimentico qualcuno, ah, e poi la rossa volante, Francesca, insomma, voglio dire, quindi da questo punto di vista non potevo non essere qua. 11 atleti per 11 medaglie, sono loro i primi a rendersene conto con incredulità, anche se alle vittorie c'è chi dovrebbe essere abituato. Non so se siano le più belle, sono le più recenti, dunque le più fresche, dove le emozioni sono ancora belle, vive e indescrivibili. La grande festa alla polisportiva Terraglio di Mester, che con i suoi impianti è un po' la culla dello sport paralimpico per il veneziano, tanti appassionati, ma anche autorità, come il presidente Veneto Luca Zaia, e in prima fila applaudire Bebe Vio, Francesca Bettella, Michele Ferrarini, Andrea Borgato, Michele Brunelli, Marta Zanetti, Nadia Fario e Xenia Francesca Palazzo. Una festa che poi si allarga un po', perché oggi presenteremo anche un libro, dove raccogliamo in questo libro tutti gli atleti paralimpici che sono andati alle Paralimpiadi, con medaglia o senza medaglia, proprio perché non vogliamo disperdere il patrimonio e chi ha promosso lo sport paralimpico.